Una delle domande più frequentemente viene fatta riguardo all'autonomia elettrica. Probabilmente anche per colpa mia che ho fatto diversi video sull'elite e sull'autonomia, la maggior parte di chi si sta approcciando all'acquisto sta preoccupando più del necessario, di quanto sia necessario potenziare l'impianto elettrico del camper di serie. Tenete presente, come vi ho già detto in altre occasioni, che al 90% degli utenti non serve aggiungere assolutamente nulla se non un pannello solare e al limite una seconda batteria di servizio. Ma anche questo potrebbero essere superflui se fate prevalentemente aree di sosta o campeggi, perché una volta lasciate la corrente non vi serve assolutamente nulla che la batteria di servizio è basta di serie. Anche se sul mio attualmente ho la batteria di litio, ma perché è stata più una scelta di test per poter presentarvi un prodotto in più nuovo, per le mie esigenze personali la batteria di litio è assolutamente già superflua. Quasi nessuno tra i miei conoscenti fa un uso del van superiore come richiesta di energia a quella che può essere necessaria per fare 3-4 giorni in libera scollegati dalla corrente a motore spento. Cioè se io parto per un viaggio faccio normalmente un giro, un tour, che può essere il weekend di 2-3 giorni, quindi faccio una-due notti in un posto solo e le due batterie di servizio e al limite un pannello solare se voglio stare tranquillo mi basteranno sicuramente. Oppure magari faccio anche 20 giorni, mi è capitato di fare 20 giorni in nord della Francia a gennaio con solo due batterie di servizio senza nemmeno un pannello solare. Però ogni giorno mi spostavo di 50-80-100 chilometri. Ho fatto 25 giorni in nord Europa senza mai collegarmi alla corrente, ma anche lì mi spostavo ogni 2-3 notti. Tenete conto che comunque lo stare fermi, come fa il nostro amico Yari, per due settimane in mezzo a un bosco non lo fa quasi nessuno, semplicemente perché dovrete prima o poi scaricare l'acqua. L'autonomia reale che avete non è solo elettrica, è tutto il pacchetto camper. Quindi se siete in due, ogni 2-3 notti dovrete scaricare la cassetta del WC se usate solo il camper. E comunque l'acqua pulita vi durerà per 4-5 giorni al massimo. E in ogni caso dovrete andare in un'area di sosta, quindi vi sposterete. Magari farete solo il carico e scarico, ma intanto vi siete spostati e l'alternatore è già carica. O se sapete dover fare in un posto 3-4 notti perché decidete di visitare bene un luogo, è molto probabile che in quella tappa del viaggio farete una sosta in campeggio, in un'area di sosta. Per lo meno noi facciamo così. Nel viaggio in Camargue e Provenza abbiamo fatto decine di giorni, però due campeggi li abbiamo utilizzati per 2-3 notti ciascuno. dove abbiamo fatto appunto le soste un po' più lunghe e attaccandoci alla corrente se ci serviva. In realtà poi, stando 2-3 giorni, tante volte io vado in campeggio, ma raramente prendo corrente, perché non mi serve. Tanto io se faccio 2-3 notti, anche fino a 4 notti invernali con frigo compressore e scalamento truma combi diesel che consumano più corrente, fino a 4 notti di autonomia con due batterie buone AGM e un pannello solare di 145 watt, li ho sempre avuti di autonomia. Se invece volete fare due settimane in mezzo a un bosco a motore spento, dovete per forza avere l'elitio. Non è utile mettere 3-4 pannelli solari perché tanto se nevica non caricano niente, quindi dovrete avere l'elitio che alla peggio c'è nel motore, ricaricherete. Però non fatevi grossi problemi sull'autonomia inizialmente, piuttosto lo valuterete in un secondo tempo, ma al 99% delle persone bastano appunto la dotazione classica che vi dicevo poco fa.